Ora niente di strano e il ministro lo può incontrare se non fosse che il CEO di Huawei, questo è successo a dicembre, è il cliente di una società del cognato e del suocero del ministro, un congiunto stretto, i congiunti stretti. Allora le chiedo, secondo lei è opportuno che un ministro incontri il cliente di un congiunto stretto? Questa è la domanda, la giustizia non c'entra, farà il suo corso, non c'entra niente, è un'altra storia. E allora infine, forse l'avranno informata di questo pezzo. No, francamente mi sarà. Tento un'altra, ritento. Ritento? No, 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 capito. Alla festa di Atreiu, ritento una cosa tanto può rispondere con un sì o no, alla festa di Atreiu, che ormai sembra lontanissima, lei ha applaudito convintamente a Elon Musk, affettuosamente. Peraltro lei ha introdotto giustamente il tema dell'intelligenza artificiale, che sta molto a cuore al nostro Presidente della Repubblica anche. Grazie.